Desidero assicurare una speciale preghiera per la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo che si celebra oggi. Invochiamo il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per le popolazioni che più soffrono a causa dei conflitti in atto. Io rinnovo in particolare il mio appello affinché le persone sequestrate o ingiustamente private della libertà siano rilasciate e possano tornare alle loro casse.